Ancora un incontro delle associazioni del territorio con i commissari straordinari del Comune di Quarto, Alfonso Coppola, della CISO e non solo sono stati ricevuti dai commissari, diversi gli argomenti sul tavolo. Il tavolo di discussione dei commissari che hanno tutti presenti, tutta la squadra dei commissari, i prefettizi del Comune di Quarto, i problemi dei parcheggi e delle strade come sono mal ridotte. Il problema dei parcheggi innanzitutto sui commercianti, per il commercio, quindi fuori ai negozi, e la questione dei parcheggi per l'intescambio tra le fermate della Cumana e della Metropolitana. Erano presenti insieme a me gli amici, l'amico Gennaro Esposito, l'ASCOM, rappresentante dell'Uni Impresa, dell'associazione per quarto. Quali sono state le risposte dei commissari? Le risposte dei commissari sono state quelle di attendere da noi addirittura una nota scritta di ciò che noi abbiamo portato al tavolo, perché c'è la disponibilità a trovare delle soluzioni. Addirittura stanno preparando un nuovo piano traffico e quindi dentro al piano traffico vorrebbero anche poi inserire tutta la questione dei parcheggi. E per quanto riguarda le strade che sono ridotte in pessime condizioni? Allora per quanto riguarda le strade c'è stata data una sommatoria notizia che stanno arrivando dei fondi per rimettere in ordine queste strade e addirittura di ripristinare quelle rotonde che sono state abbandonate e mai più completate. Nel frattempo aumentano gli incidenti e la richiesta di risarcimento di danni al comune di quarto? Sì, sì, la cosa che noi abbiamo evidenziato è che purtroppo in quest'ultimo periodo ci sono tantissimi incidenti, non solo di auto ma addirittura di persone che con questa pioggia battente di questi giorni li fa cadere nelle buche e quindi con grossi problemi anche fisici. Grazie Grazie Grazie